Ciao a tutti ragazzi, qui è Bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo episodio del pacchetto mondato Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo iniziato la Tinker che ci permette di avere materiali OP E sempre nello scorso episodio ho fatto questo piccone di ferro con auto repair, quindi si ripara al sole E poi abbiamo aggiunto durata 500 con un diamante Questo sarà il piccone che utilizzeremo in grotta per qualsiasi materiale Soltanto che io voglio un piccone molto più forte con molte più cose Quindi ci serve l'allumite che si fa con il ferro, l'alluminio e l'ossidiana in questa grande fornace Quindi è un miscuglio di queste tre cose Dopo aver fatto l'allumite, con il piccone di allumite possiamo andare a prendere il cobalto e l'ardite nel nether E mischiando questi due materiali sempre qua nella fornace possiamo prendere il manilium Che è un materiale molto molto potente e quindi proprio il nostro piccone più forte sarà proprio fatto di manilium E poi ci metteremo la Reston per renderlo più veloce e altre cose per renderlo davvero molto molto forte Quindi iniziamo subito a fare l'allumite Allora abbiamo detto il ferro che già ci sta dentro la nostra fornaciona Fornaciona? Va bene E poi l'ag Poi ci serve l'ossidiana Andiamo a prendere 24 pezzi random E poi l'alluminium Andiamo a prendere un po' di pezzi Quindi andiamo qua dentro e bruciamoli Quindi alluminium E poi mettiamo anche l'ossidiana Allora nel frattempo ho fatto anche una pala Che è una pala di ferro E su questa pala poi ci mettiamo auto repair e ce la portiamo in giro Quindi poi facciamo anche questa cosa sulla nostra pala Ok Alluminium eccolo qui Adesso prendiamo l'ossidiana La mettiamo L'ossidiana ci mette un po' di più Quindi andiamo a fare l'auto repair Per la nostra pala Allora ragazzi Dato che nello scorso episodio non avevo moss stone Adesso ce l'ho Ho visto che grazie a Le sense of nature Possiamo appunto fare la moss stone E infatti Ecco qui il crafting Ce l'avevo già Me l'ho scordato Quello che l'ho messo pure io E quindi appunto questo è il crafting E ci riprendiamo altri otto pezzi perché ci servono Quindi andiamo a fare questa cosa qui Che è la ball of moss E la mettiamo sulla nostra pala In modo tale da renderla anch'essa auto riparabile Quindi andiamo qui Mettiamo questa No Sì La stessa cosa Sì però che taglio si mette Nel Diciamo nel manico Tra virgolette Diventa verde sotto E non Nella parte superiore Perfetto Quindi anche la nostra pala La nostra pala adesso ha auto repair Perfetto Ora vediamo un po' L'ossidiana a che livello sta Ok Molten allium Ecco qui la Molten allumite E quindi E quindi andiamo a prendere Le nostre forme Che sono già qui Come vedete Quindi ci serve questa Questa e questa E vediamo un po' Se basta l'allumite Non lo so sinceramente Adesso proviamo 16 basta Pam 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 Sì credo di sì Ok Questo è fatto Questo Ok Questo è fatto E poi la testa Ok Anche questo è fatto Perfetto Quindi Andiamo nella Toolstation E facciamo il nostro piccione Eccolo qui Allumite Piccaxe Quindi Adesso Andiamo nel nether E così possiamo prendere Il cobalto E l'ardite Ok ragazzi Ho preferito mettere Un po' di velocità Sul nostro piccione In modo tale da prendere Il cobalto E l'ardite In maniera Più velocemente E quindi Andiamo nel nether Ora Andiamo un po' Se lo troviamo Subito vicino Al portale Sia il cobalto Che l'ardite Dovebbe essere Quella l'ardite Vediamo un po' Se Ho ragione No Questa è la nether Sulfur Nether gold Or Sulfur Amber Sistema girato E che sei tu Tin E tu Reston Quarzo Copper Oh Ci stanno tutti i tipi T'ho visto T'ho visto laggiù Cobalto Bello Un pezzo Davvero Un pezzo Bene Cioè davvero Bene Qua Oh oh Unfami Nether tea Nether quartz Queste sono Le essenze Nether quartz Nether sulfur La vedo altro Cobalt Lì c'è la C'è una morte Del nether Bene Non ho tolto Il death point Allora andiamo di là Quindi Ah io ho sbattuto pure la testa Vediamo un po' Questo è il mitril Lo posso rompere il mitril? Oh gg Vediamo un po' Che cosa possiamo fare con il nostro mitril Il mana infused ore Che ci facciamo con il mana infused ore? Il lingotto insieme alla pyretium dust Altrimenti Vabbè ci facciamo il lingotto Che ci facciamo con il lingotto? La mana infused block O la ggir E che cacchio ci facciamo con la ggir? Una ceppa Bene Noi prendiamo anche il mitril Ce ne frega una ceppa Noi prendiamo tutto Quindi tu non sei cobalto Ma sei mitril Perfetto Quello è cobalto Quindi facciamo un attimo i pezzi Uh magico T'ho visto laggiù pure a te eh Allora ragazzi Mentre prendo Questi bellissimi materiali Vi volevo parlare Un po' Perché Qualche giorno fa Sul canale E' uscita una collaborazione Con qualche youtuber Avevo già parlato appunto Di questa collaborazione Prima che uscisse Nel video di Minecraft Vanilla Però Adesso che siamo A venerdì E' uscito il video Quindi se non l'avete ancora visto Andatelo a vedere Perché è davvero molto Divertente Ehm Comunque Anche se Non so se l'ho già Fatto prima Mannaggia giuda Vorrei anche ringraziare Tutti i youtuber Che hanno partecipato Però comunque Trovate il link Dei loro canali In descrizione al video Quindi andate a vederlo Naturalmente dopo questo Cioè Naturalmente Allora vediamo un po' L'artite ancora non l'ho trovata Sei tu? No tu sei oro E ho preso Ehm Tre pezzi di cobalt Quelli erano lapislazzoli E vabbè allora Facciamo tutto blu qua dentro Ma che è oh? Eh Ah ecco l'artite Giusto E' così brutta Un pezzo Un pezzo Ma perché? Sei sulfor? Oh mio dio Ma è davvero così complicato Trovare Il cobalto e l'artite Stiamo scherzando Tu che sei? Coal Porco E Oh cobalt Pensavo che erano lapislazzoli Un pezzo Ma no Per un po' Di blocchi Dando un pezzo L'uno Ma io non lo so Non è davvero infame Allora ragazzi Eccomi tornato A casa Allora è stato Un pochetto complicato Trovare sia Il cobalto Che l'artite Perché Non ne ho trovato Moltissimi Infatti ho trovato 14 pezzi di cobalto E 10 di ardite E comunque ci dovrebbero bastare Per fare Quello che ci serve a noi Poi ho trovato 12 di mitril Perché l'ho preso Così random Ho trovato Un pezzo di ferrus Un Un Saphir ore E poi Ho trovato i lapislazzoli Perché l'ho scambiato Per il cobalto Allora ecco qui Il molten Manilium E' manilium Manilium Linna Manilium Ma che cacchio Ne so io Allora prendiamo Il Allora questo Questo E questo Si Allora andiamo Con lo sticchetto Ok Grazie Poi andiamo Con la Testa Perfetto E poi andiamo Anche con La X La parte centrale Ok Grazie Gentilissimo Ora Tu vi è qua Che t'ho lasciato prima Allora Tu qui Tu qui E tu qui Ecco il nostro Piccone Ah Adesso ci divertiamo Adesso ci divertiamo Allora Sempre qua Perché sono andato là Allora Intanto Meaning Speed 9 Mining Speed Scusate 9 Quindi noi ci mettiamo La Reston E incominciamo A potenziarlo Come lo schifo Così mi piace Guardate La sua Velocità Che è già salita A 10 E continuiamo Finché non Utilizziamo Tutti i pezzi Di Reston Che abbiamo messo Lì Poiché se sono Divisi male Continuiamo Continuiamo Attenzione La velocità Di blue light Ah facciamo così Guardate Facciamo così Chiudiamo lo spazio qua Chiudiamo anche lo spazio qui Facciamo così Così Molto più easy Così lo potenziamo A manetta Proprio Questo lo rimettiamo qua Quanto sta 16 Mio dio Quanti blocchi abbiamo messo Per adesso 96 Facciamo 100 E basta Continuo messi 100 Ok Mining speed 18 No 18 18 Ora si Ok Quindi facciamo così Perfetto Velocità 18 Quindi Rispetto a questo Che aveva 11 68 Mi sa che è molto Più veloce Poi Nostro Diamante Per la Durabilità La nostra Ball of Moss Che non possiamo mettere No Fammi capire Perché no Dovevo mettere Prima La Ball of Moss Oppure non si può Autoriparare Perché è troppo Forte Non lo so Perché comunque Questo Me l'ha fatto Fare Vediamo un po' Vediamo un po' Aspettate Se noi invece Facciamo la Tool Aspettate Fatemi uscire Da qua Mi sa che ci serve Una Una cosa più potente Quindi La tool Forge Vediamo un po' Questa Come si fa Come si fa Con tre Blocchi Ok Quattro pezzi Di Ferro Blocchi di ferro E poi la tool station Ok Vediamo un attimo Allora La tool station Ce la freghiamo Perché Mi sa che Il piccolo Adesso è troppo potente Quindi ci serve Un tavolo Più forte In teoria Non ti devi Piazzare Devi entrare dentro La crafting Allora Tu qua Poi Ti pare Ti pare Che c'ho Un blocco Nel frattempo Prendiamo I blocchi di Arion Che erano Quattro Se non sbaglio E poi Rifacciamo Il Easy red Che si facevano Con la grotta E quindi Andiamo subito A cucinare La nostra grotta Debbe essere Una cosa Molto Veloce Vediamo un po' Grazie Diciamo così Va Non prendiamo Ne altra Così andiamo Un po' Più veloci Vai 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 Corri 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 Intanto Prendiamo questo Ce ne servono Tre abbiamo detto Quindi Aspettiamo Il Vabbè Facciamo Un blocco Nel frattempo Ok Siamo a due Qua Manca un pezzo Dammi un mattone Grazie Ok Perfetto Quindi Un due tre Toolforge Vediamo un po' Se adesso Con la Toolforge Cambia qualcosa Tan 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 Banf Ok Tu Manilium E poi Tu Lavi Slazzulo Fuck Ok ragazzi Ho trovato la Soluzione Nel libro Infatti Andiamo avanti Dopo tutti quanti I cacchi I mazzi Comunque ho visto anche Altre cose da aggiungere Tipo La lava crystal l'auto smelting quindi poi vediamo un po' se noi andiamo avanti troviamo qui questo diamante più blocco di oreo adds an additional modify slot quindi aggiunge uno slot in più ora la mia domanda è lo posso aggiungere anche dopo che ho aggiunto già la resto nel diamante proviamo quindi abbiamo detto diamante blocco di oro blocco di oro che ho qua dentro andiamo un po' qua tank tank e tank ok c'è scritto modifiers remaining 1 quindi vuol dire che posso aggiungere altro yeah we have lapis lazuli in the house e quindi se noi rimettiamo un altro diamante e un altro blocco di oro succede la stessa cosa ton 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 molto effetto cinematografico vediamo un po' attenzione incredibile proprio loro si avvicinano blocco diamante tac no non posso rifare cazzocina triste perfetto ora quindi possiamo mettere aspetta fortuna o auto repairing auto repairing o fortuna no però aspetta aspetta ho aperto la mappa come aperta la mappa tipo con questo bene e aspetta ci sono altri modi per aggiungere un posto si mi sa avanti 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 allora c'è questo e poi c'è questo e mela d'oro mela d'oro anzi a solid gold apple non so come si fa e un blocco di diamante perfetto avanti 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 non ci sono più pagine e allora facciamo così se sfruttiamo questo spazio per metterci lapis lazuli ora che non ci sono più spazi posso aggiungerne un altro probabilmente si magari no sei un infame sei un infame e io gli metto l'hack e io lo riempio di lapis lazuli fottiti fottiti eh ti piace così eh minecraft cosa ne pensi adesso cosa ne pensi si tutti i lapis lazuli ok mi sono un po' sfogato giusto un po' comunque questa è la book binder che serve appunto per mettere i libri anzi per tenere i libri quindi una cosa molto carina possiamo anche chiuderla e quindi abbiamo piccone con aste durata e fortuna e non abbiamo auto repair troveremo il modo di aggiungere altri slot per questo piccone quindi ragazzi per questo episodio del pacchetto moddato è tutto spero vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un piace di commentare di condividere questo video pagina facebook in descrizione sito web in descrizione istangaming in descrizione quindi ciao a tutti da blue light